Musica Ben ritrovati con questa nuova edizione del TG Veneziano. A Venezia le celebrazioni della Festa della Liberazione ieri sono iniziate alle 9.30 con il tradizionale alza bandiera e gli onori resi dal picchetto militare interforze in piazza San Marco. Presenti il sindaco Luigi Brugnaro, il prefetto Carlo Boffi ed altre istituzioni alle 10.30. Invece a Mestre in municipio si è svolta la deposizione delle corone di alloro ai piedi delle statue dei caduti e poi alle 11 l'alza bandiera. A Palazzo Ducale invece sono state premiate le eccellenze veneziane e metropolitane e omaggio quindi ai cittadini che hanno portato prestigio alla città con le loro opere nella scienza, nelle arti, nello sport per quanto riguarda l'industria e anche l'artigianato. E a Quarto Daltino ieri invece gli alunni delle scuole medie hanno durante sempre la manifestazione per la festa del 25 aprile e hanno intonato Bella Ciao, cogliendo così di sorpresa i sindaci del centro-destra che poi si sono allontanati. Una reazione che però non è stata, non è piaciuta ad alcuni dei presenti. Le opposizioni hanno così attaccato dicendo che gli insegnanti hanno ritenuto questo canto adatto per parlare ai ragazzi della resistenza. Una scelta quindi, secondo appunto le opposizioni, da rispettare. Bella Ciao però non è riconosciuta come inno istituzionale. E questa mattina invece al patronato della chiesa di Gesù Lavoratore a Marghera i bambini delle elementari hanno partecipato alla manifestazione Arampilandia promossa dal gruppo di Arampicata Sportiva Isgraffa Masegni con la collaborazione del gruppo speleologico San Marco. Presenti anche gli assessori Paola Mar e Simone Venturini per il Comune di Venezia oltre anche a Gianfranco Bettin, il presidente della Municipalità di Marghera. Arampicata quindi come momento di sano divertimento per gli alunni. La Camera di Commercio ha messo a disposizione 1,2 milioni di euro per la trasformazione digitale delle PMI, le piccole e medie imprese del territorio. Sono fondi stanziati nel periodo 2018-2019, un progetto che vede il supporto anche dell'Università Ca' Foscari, è previsto quindi uno sportello di assistenza e di orientamento per le imprese che non conoscono quelle che sono le soluzioni digitali. Un servizio che aiuterà le imprese ad esempio sulla fatturazione elettronica. Sarà affiancata anche la formazione, il team previsto è composto da docenti, da ricercatori dell'Università Veneziana, nonché da esperti digitali e da 20 digital promoters, studenti e neolaureati. Sulla vicenda drammatica del piccolo Alfie Evans, il bambino di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa, ha rilasciato una dichiarazione anche il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Una riflessione pacata, si legge, che aiuti a maturare una posizione per cui i diritti dei deboli, innanzitutto quelli di un bambino e poi dei suoi giovani genitori, non siano diritti deboli. Il Patriarca richiama poi le parole del Papa, ribadendo che è nostro dovere fare di tutto per custodire la vita e poi un riferimento anche a chi non è credente. Nessun potere umano può arrogarsi, si legge, il diritto di impedire che altri stati ed istituzioni scientifiche riconosciute come eccellenze nel campo della ricerca e della cura medica si facciano carico del piccolo ed intervengano in luogo di chi non ha più nulla da dire o da dare. E adesso invece passiamo alla cronaca, un furto nella residenza di una signora a Venezia in zona Santi Apostoli che ha fruttato ai ladri un bottino che supera il valore di oltre appunto 100 mila euro tra diamanti e gioielli. La padrona di casa teneva i preziosi all'interno della cassaforte in camera da letto, camera da letto che per questo motivo veniva sempre chiusa a chiave. La signora però creduto di aver perso il portafoglio contenente anche le chiavi di casa, più probabile che invece glielo abbiano proprio sottratto apposta. Fatto sta che dopo aver aperto la porta della camera con l'aiuto del fabbro i preziosi tutti mancavano dalla cassaforte. Sulla vicenda sta ora indagando la polizia. Siamo arrivati alla consueta pagina sportiva per il basket. Nuova vittoria dell'Umana Rayer Venezia che ad Avellino ha dominato nell'atto primo della finale FIBA Europe Cup contro Sidigas Avellino per 69 a 77. Questo è il risultato finale tra i migliori in campo. Austin Day sulla sirena applausi da parte di entrambe le tifoserie gemellate. E' naturale che siamo contenti di vincere a Avellino contro una grande squadra. Non è mai facile, ci conosciamo però sappiamo che è sempre una partita difficile. Credo che abbiamo giocato una partita molto solida per 40 minuti, a tratti controllando la partita. Credo che la cosa importante sia che tutti abbiano dato un apporto, sia quelli della panchina che quelli in quintetta. Abbiamo sistemato qualcosa all'intervallo e credo che dovremo fare ancora aggiustamenti per il ritorno, però ripeto siamo molto contenti di questa vittoria perché è solo la prima parte di questa finale. E ancora basket, questa volta basket femminile, prima sconfitta interna stagionale in campionato. Le oro granata di coach Libera Lotto hanno infatti perso a Ragusa 64 a 77. Adesso è tutto da rifare. Le veneziane infatti sono state raggiunte dalle siciliane. E parliamo anche di una nuova attività sportiva che sta spopolando, parliamo del cheerleading. Vediamo il servizio. Il prossimo maggio Caorle ospiterà la seconda tappa del campionato italiano di cheerleading, uno sport che in Italia è emergente ma che raccoglie già numerosissimi iscritti. Ce ne parla il presidente della federazione nazionale FISAC, Cesare Bianchi. Io rappresento la FISAC, in questo caso la FISAC sta per Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coriografici. È nata nel 2006 e racchiude circa 12 sport. Al momento stiamo parlando soprattutto di cheerleading, in quanto è uno sport che sta avendo un grosso sviluppo. Abbiamo circa 1.500 tesserati di questo sport. Quest'anno faremo due tappe di campionato nazionale. La prima a Santa Corsa e Sudano, la seconda sarà a Caorle il 5 maggio, sempre due giorni, sabato e domenica. E anche lì prevediamo una grossa affluenza. Anche quest'anno andremo in Mondiani, rappresenteremo il performance cheer. Andiamo ad Orlando, partiremo dal 22 aprile al 1 maggio. E ancora calcio Serie B, dopo la vittoria a Novara di sabato scorso. Domani il Venezia giocherà in casa contro il Palermo. Appuntamento quindi a Venezia per le ore 19. E per quanto riguarda la Serie C, il Mestre invece giocherà domenica al Mecchia di Portogruaro contro il Sant'Arcangelo. La società con un comunicato stampa fa sapere di aver lanciato un sondaggio tra i tifosi per capire le preferenze in merito all'impianto in cui si desidererebbe vedere giocare la squadra per la prossima stagione. Gli impianti sono il Mecchia di Portogruaro, il Penso di Venezia, l'Euganeo di Padova e il Tombolato di Cittadella. Si cerca in sostanza, si dice nel comunicato stampa, di agevolare la tifoseria costretta ormai da anni a seguire la squadra fuori Mestre. Questa era l'ultima nostra notizia. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio in compagnia del nostro direttore Massimo Righetto e vi do appuntamento alla prossima nuova edizione. Grazie.